Quali sono gli elementi critici di successo nella gestione di questi progetti? Quali sono gli elementi che facilitano il boom? La necessità per gli italiani di incrementare i dati di affluenza e i dati dei progetti realizzati negli ultimi 10 anni in Europa dimostrano che dopo il primo anno si aumenta del 40% l'affluenza media e del 70% i ricavi e un secondo motivo è sicuramente la possibilità con i nuovi impianti di diversificare le fonti dei ricavi in un contesto proprio italiano fortemente legato ai dettivi. Se questi sono i principali motivi che scrivono il boom, quali invece i fattori critici di successo di questi progetti? Ne menzioniamo alcuni. Un primo fattore è sicuramente la capacità di contenderare gli sforzi di attori pubblici e attori privati perché gli stadi spesso rappresentano un modo per qualificare aree urbane o rappresentano delle vere e proprie icone architettoniche per la città dell'Ostria. Un secondo elemento critico è sicuramente il giusto dimensionamento della capienza dell'impianto. Si assiste negli ultimi anni alla realizzazione di impianti di medio-piccole dimensioni, questo per varie ordini di motivi. Per limitare i costi di costruzione che tendono ad aumentare il termine di costo per seat all'aumentare della capienza dell'impianto, per creare una sorta di effetto waiting list, l'Arsenal dopo due anni dall'apertura dell'Ambria è stata una lista d'attesa di 47 mila tifosi per l'acquisto di abbonamenti e avere un impatto evidentemente positivo con questa volta in vista sulle politiche di pricing. Per avere evidentemente anche un impianto sempre pieno di caratteristiche anche dal punto di vista dello spettacolo TV, un ultimo elemento relativo alla capienza è sicuramente la capacità di allocare in maniera profonda questa capienza anche ai cosiddetti posti di input, che spesso rappresentano il 20% dei posti di impianto ma generano il 40-50% dell'Italia. Tra gli altri elementi non possiamo dimenticare per il successo dell'impianto, il giusto dimensionamento e differenziazione delle fonti di finanziamento, la capacità di garantire esperienza etale in partita anche sfruttando questa nuova sfida per potenzialità delle nuove tecnologie e l'inserimento dell'impianto in una strategia commerciale complessiva del campo. In sintesi tutti questi fattori ci dicono che è critico coniugare costruzione e gestione che trovano nelle competenze manageriali di comprensione del fabbisodio del cliente tifoso e di erogazione di un poerente sistema di offerta il proprio mero di congiunzione. Grazie.